Ancora fiamme sul Vesuvio. Dopo i rughi degli scorsi giorni, ieri i volontari dell'Associazione Prima Aurora hanno avvistato e segnalato un nuovo incendio sviluppato sin territorio del comune di Ercolano, prontamente arginato dagli operatori AIB. Le fiamme sono rimaste arginate a poche erbacce e fortunatamente l'incendio non ha preso piede grazie al pronto intervento. Tuttavia i volontari ricordano che le condizioni di siccità estrema, unite ad altri fattori predisponenti, rendono il livello di rischio elevatissimo e bisogna mantenere alta la guardia. Per tale motivo Prima Aurora, insieme al Club Alpino Italiano Tutela Ambiente Montano Campania, ha scritto una lettera a tutte le autorità competenti per chiedere che vengano messe in campo, ognuno per la sua competenza, tutte le idonee attività e misure di prevenzione antincendio boschivo, tra le quali, ovviamente, l'emanazione di specifiche ordinanze comunali. Tra le varie richieste è anche quella di fare manutenzione alle opere AIB presenti sul territorio e dallo stato attuale non più funzionanti, come il bocchettone per il rifornimento idrico dei mezzi di via Resina Nuova, ormai fuori uso da due anni e già purtroppo non utilizzabile durante gli incendi dell'anno scorso scoppiati proprio a ridosso di quest'ultimo. I volontari ribadiscono che gli incendi vanno spenti prima che nascano, perché altrimenti, come ci ha insegnato il grande incendio del luglio 2017, potrebbe essere poi troppo tardi.